Ciao a tutti da Federico Miccioni e benvenuti al primo di questa serie di tutorial su Lightroom. In questo video faremo una veloce panoramica su tutta l'interfaccia di Lightroom. Prima cosa da sapere su Lightroom è che è un'interfaccia divisa in ambienti di lavoro protosequenziali che rappresentano il flusso di lavoro eseguito da un fotografo. Lightroom è stato concepito per permettere ai fotografi di eseguire tutti quei passaggi che si svolgevano con la fotografia tradizionale. Per questo motivo Lightroom è stato diviso in sette ambienti di lavoro. Libreria, sviluppo, mappa, libro, presentazione, stampa, web. Ogni ambiente serve ad eseguire una serie di compiti che vedremo ora velocemente e poi approfondiremo nei successivi tutorial. La libreria è un archivio per organizzare le foto e fare piccole correzioni di colore con la funzione presente in sviluppo rapido. L'interfaccia è divisa in tre sezioni verticali ed una orizzontale. Questo vale per tutti gli ambienti di Lightroom. Al centro è presente l'area di lavoro. Quando siamo in libreria troverete le anteprime di tutte le foto che possono essere ingrandite a piacimento fino a vederne anche una sola foto. La zona in basso è detta area del provino. Sono disponibili tutte le foto a scorrimento orizzontale. L'area provino è sempre presente senza variazioni in tutti gli ambienti di lavoro del programma. Sul lato sinistro troviamo le funzioni per gestire il catalogo, l'organizzazione delle cartelle e le funzioni di condivisione via internet. Sulla destra sono presenti le funzioni di sviluppo rapido che consentono all'applicazione veloce delle correzioni cromatiche e tonali a una o più foto contemporaneamente. Tutte le funzioni applicate nell'ambiente libreria saranno comunque mantenute nell'ambiente di lavoro sviluppo. Sotto gli strumenti di sviluppo rapido sono presenti le opzioni per le gestioni delle parole chiavi e dei metadati, molto importanti per tenere ordinato il proprio archivio. L'ambiente di lavoro sviluppo è il più importante di tutto il programma e il più utilizzato. Si tratta della versione digitale della camera oscura. Qui effettuerete le operazioni di sviluppo dei vostri files, dove potrete fare tutte le correzioni necessarie per ottenere il risultato desiderato. Anche in questo caso avrete il tutto in un ambiente diviso in tre aree verticali ed una orizzontale sotto. In alto a sinistra c'è il navigatore. Questa funzione permette di scegliere il livello di ingrandimento dell'immagine. Adatta l'immagine, riempi, 1-1, 4-1 e via dicendo. Se premete il tasto F, la visualizzazione della foto passerà a schermo intero. È molto comodo per vedere il risultato, ma non per lavorare nella foto, perché spariranno tutti gli altri strumenti di regolazione. Premete nuovamente il tasto F per tornare alla visione normale. Sotto il navigatore, nella colonna di sinistra, troverete alcuni strumenti raccolti in pannelli. Tra questi i predefiniti o preset, cioè impostazioni di sviluppo che si possono applicare a più immagini contemporaneamente. Questi preset li potete scaricare direttamente dal mio sito scuoladifotografiafm.it e installarli direttamente su Lightroom. Poi ci sono le raccolte, che sono gruppi virtuali d'immagine, le cui posizioni sul disco possono essere differenti, ma il fotografo può raggrupparle concettualmente. Nella colonna di destra, invece, è posizionato l'istogramma che mostra come è distribuita l'informazione tonale sull'intera foto. Qui sotto vengono mostrate le informazioni più importanti di scatto, quindi ISO, focale, diaframma e tempo di esposizione. Oppure, portando il mouse all'interno della foto, le coordinate RGB del punto selezionato. Sempre nella colonna di destra troviamo gli strumenti di carattere generali, quindi il ritaglio, strumento per gli occhi rossi, per il clone, per le sfumature e per gli interventi locali, che poi ne parleremo in seguito nei futuri tutorial. Sotto gli strumenti di carattere generale troviamo tutti gli strumenti di sviluppo raccolti in nove pannelli specifici, che possono essere nascosti per ottimizzare lo spazio. L'ambiente di lavoro mappa ha la struttura degli altri ambienti di lavoro, ma consente di geotaggare le foto sulla mappa. Molte fotocamere hanno un'antenna GPS incorporata. Lightroom riesce a leggere questi metadati e posizionare direttamente le foto sulla mappa. Se la vostra fotocamera non è dotata di un'antenna GPS, potete assegnare manualmente le foto prescelte direttamente sulla mappa. Vi basterà trascinare direttamente la foto sul punto della mappa e verranno assegnate direttamente lì. Ecco qua. Questa fotografia l'ho scattata da Sisi, non avevo il GPS nella fotocamera, quindi assegno direttamente la posizione geografica della foto trascinandola sulla mappa. Eccola qua. Bene. L'ambiente di lavoro libro consente la creazione di libri fotografici che è possibile stampare direttamente sul formato PDF o JPEG oppure inviare in stampa tramite il servizio offerto. Questo servizio vi produrrà il libro e ve lo spedirà direttamente a casa. Con l'ambiente di lavoro presentazione potrete presentare i vostri lavori fotografici con uno slideshow, usando i pannelli presenti sulla sinistra dello schermo e modificandoli con quelli presenti sulla destra. È anche possibile aggiungere un sottofondo musicale. L'ambiente di lavoro stampa è interamente dedicato alla stampa delle fotografie. Diciamo che è un vero e proprio rip di stampa. Sulla sinistra troverete dei modelli da usare sia per stampare foto singole che per fare provini a contatto. Potrete anche aggiungere delle idascalie alle vostre foto. Al centro è presente un'anteprima della vostra pagina come verrà stampata direttamente. Mentre a destra sono presenti tutte le scelte personalizzate come la posizione della carta, la scelta della filigrana e molto altro. Nell'ambiente di lavoro web troverete tutto il necessario per poter creare un mini sito web con le foto che volete usare. Come negli ambienti stampa e presentazione sulla sinistra troviamo dei modelli pronti all'uso. Mentre sulla destra sono presenti i modelli dedicati alla presentazione del sito. Bene, con quest'ultimo ambiente di lavoro abbiamo concluso questa prima veloce panoramica sull'interfaccia di Lightroom. Se ti è piaciuto questo video e per non perdere i tutorial che farò in futuro ti invito a iscriverti al canale così rimarrai sempre aggiornato. Grazie e ci vediamo al prossimo video.